Oh oh, si sono incontrati. Combattete! Ehi, non scappare! Rumba! Ciao belloni e bentornati sul canale. Buttate la scopa, buttate l'aspirapolvere, buttate la paletta perché oggi si parla di una rivoluzione che è iniziata già da tanti anni. Non fatevi fregà quando vi suonano a casa per dirvi guardate l'ultimo modello del suo coso che vi aspira tutto quanto perché quello aspirerà pure bene, ma ci dovete stare voi dietro a passarlo per tutte le stanze. E non mi sembra più una cosa da fare negli anni 2020 che come sapete hanno portato tanto benessere a tutti quanti perché è stato l'anno migliore di sempre. Io ho detto ciao, addio, bye bye alla mia scopa già nel 2011 quando con mio marito abbiamo deciso di acquistare un Rumba. Il Rumba a quell'epoca era una cosa un po' esotica nel senso che se ne vedevano veramente pochi in giro. Lo pagammo, mi ricordo ancora, 600 euro che era una cifra pazzesca però devo dire che il Rumba ci ha cambiato la vita e meglio perché è un automatismo che ti pulisce casa praticamente. Una roba che tu prendi un pulsante e lui va per le tue stanzette della casa e pulisce tutto quanto. Ve lo presento il Rumba, io ho il modello 780 comprato nel 2011. Credo di aver comprato inizialmente un 650 però tipo nell'anno di garanzia me l'hanno cambiato per x motivi che non mi ricordo e quindi ho il 780, ve lo faccio vedere. Questo è il Rumba 780, l'estetica è ancora molto carina e accattivante, è un po' usurato perché considerateci all'anno di mio nonno ormai nel senso dal 2011 insomma. Sono 9 anni ragazzi, è una cifra di tempo veramente, un cane more del solito. Comunque insomma lui no, perché i Rumba fanno ottimi prodotti, mi sento di dire questo dopo averli usati per tanti anni ma soprattutto i pezzi di ricambio. Nel senso che in questi 9 anni ho cambiato la batteria del Rumba già due volte perché dopo un po' muore come tutte le batterie. Tutte le batterie hanno una vita massima in cui possono essere caricate e scaricate e ricaricate. Quindi io ho cambiato la batteria già due volte come detto ma soprattutto ho cambiato i pezzi di ricambio. I pezzi di ricambio li trovate dappertutto, Aliexpress, Amazon, sul sito ufficiale dove volete e i pezzi di ricambio principali sono il filtro e la spazzolina che gira e vi pulisce casa. Però perché vi parlo dei prodotti di ricambio? Perché quando compri da un produttore così importante come il Rumba tu hai la garanzia del fatto che troverai i pezzi di ricambio per un bel tempo perché hanno un buon customer service. Questa non è una marchetta, nessuno mi ha pagato per dire questo. È soltanto appunto quello che io penso. Perché in generale il Rumba è veramente un buon prodotto, lo senti proprio al tatto che è un prodotto fatto per durare e ne sono un po' la testimonianza. Perché cambiarlo allora? Perché sì, questo video è un video di comparazione tra un modello molto vecchio della Rumba e un nuovo modello della Nito. Anzi, il modello di punta della Nito attualmente è il 750 PET. Però perché questo upgrade? Perché cambiarlo? Il motivo è presto detto. Io ho il carpet e mi sembrava che il Rumba stesse facendo un po' più fatica del solito nell'aspirare la sporcizia. Perché dopo tutto Porello era nato per un pavimento italiano in cotto. Purtroppo quel pavimento italiano non c'è più, adesso si deve rassegnare a stare sul carpet. Vi dico questo perché appunto sulla moquette, ovvero il carpet, comunque Rumba funziona eccetera, però vedo che fa un po' di fatica perché dopo tutto ha 9 anni di età. Quindi ho pensato di mandarlo in pensione in Italia da mia madre che ha un bellissimo pavimento liscio e io di prendermi un modello nuovo. Inoltre la cosa che non sopporto più del Rumba è la seguente. A differenza del Nito che vedremo poi, lui non scansiona la stanza. Quindi lui è come se si muovesse la cieca. Quindi lo vedi muoversi e rimuoversi e rimuoversi sullo stesso punto praticamente per mezz'ora e tu gli dici ma ci sei già passato lì? Perché lo fai no? In realtà lui ha un sensore che dove è più sporco si accanisce per cercare di pulire meglio, però non è questo il caso ragazzi. Il mio Rumba è tipo un bambino di 5 anni in una stanza buia che croia a tutte le parti dicendo mamma papà dove siete praticamente. In più si è innamorato della mia poltrona radiato e se la monta. Se la monta che vuol dire? Vi metto il video esplicativo. Rumba nelle nostre vite da dicembre 2011 è bravo, attento e fedele, ma un debole per le sedie che monta come se fosse un colli in calore. Errore 1. Spostare Rumba in una nuova posizione. E purtroppo durante questa fase di montaggio ripetuta lui si blocca lì perché tutte le volte si incastra nello scalino della poltrona che è minimo comunque e gli rimane, lo tu devi andare a riprendere. Tanti studiosi ragazzi hanno spiegato l'attrazione, quella fisica, quella che ti porta proprio a innamorarti di qualcuno. Io vi giuro se io attivo il Rumba lui subito va dalla poltrona eppure lui non sa che la poltrona salì, però lui ci va per incastrarsi e quindi non ne potevo più. In più ho pensato faccio questo regalino a mia mamma che sarà contenta. Il Rumba 780 così come il Nito di 750 vanno benissimo in caso in cui voi avviate animali quindi io sinceramente all'epoca l'ho presi proprio per quello perché pulisce benissimo, molto meglio di come pulirei io con la scopa. E non perché sono io ma perché pulisce proprio meglio fatta apposta ragazzi in aspirapolvere dopo tutto. Un altro chiamiamolo problema del Rumba è che questi modelli qua serie 700 erano tondi, come potete vedere sono rotondi, quindi non entrano negli angoli, non puliscono gli angoli. Può darvi fastidio, può non darvi fastidio, potete chiudere un occhio, diciamo che il Nito, quello che vi mostrerò per pochissimo, pulisce anche gli angoli, questa è una cosa estremamente fica. Ci sono delle novità in casa Rumba dalla serie 900 che però costa ragazzi miei 1000 dollari, quindi insomma io non lo so se vorrei mai spendere 1000 dollari per qualcosa che mi pulisce casa, penso proprio di no. Però insomma la serie 9 della Rumba ha la forma esattamente come il Nito che adesso vi faccio vedere, quindi anche in quel caso lì va a raggiungere gli angoli, per le persone un po' fissate che ci tengono, che gli angoli siano più puliti e precisi. Però se ho fatto questo video non è per parlarvi di un modello Rumba di 10 anni fa quasi, ma per introdurvi il nuovo modello della Nito. Eccolo qua, bello come il sole, mi è arrivata la scatolina e non l'ho ancora aperto, quindi andiamo a spacchettarlo in questo modo estremamente professionale, un coltello. All'interno trovate le solite robe e robette per contattare l'assistenza clienti, vabbè ci sta. Un po' di cartone, devo dirvi che di plastica c'è soltanto questa qui, questa specie di polistirolo, quindi approvato. Di solito è terribile in termini di plastica questo tipo di roba, invece è fatto veramente molto bene l'imballo, tutto di cartone, tranne quel pezzettino di polistirolo, cartone. All'interno della scatola più grande trovate i vari filtri, uno, due, la presa UK nel mio caso e la spazzolina che è lunghissima ragazzi, quella del mio Rumba è un terzo in meno almeno, questa è veramente lunga, fico, e una rotellina che è molto più piccola di quella del Rumba, molto molto più piccola però sono sicura che farà al caso mio. In ultimo apri apri, in ultimo la basetta dove poi il Nito si andrà a ricaricare, che è una basetta un po' di design nel senso è nera, carina, c'ha questa plastichina che facciamola togliamo, togliamola, uh tutto nudo adesso, wow, sì ne convengo, è molto molto carina di design, comunque deve stare per stare in un angolo che nessuno vedrà quindi ragazzi chi se ne frega insomma, però carino, hanno fatto le cose fatte per bene devo dire. E per la serie inquiniamo il mondo che ci frega mi hanno mandato due prese, una europea e una UK, io userò questa qui però insomma c'ho quest'altra momado in faccia che c'è famono, dopo di che arriviamo al pezzo grosso che è chiuso anche lui in questa scatola di cartone, quindi ancora non plastica siamo contenti, eccolo qui ragazzi, sembra una bilancia pesa persona, non è una bilancia pesa persona, è proprio un cosino che andrà a pulirvi tutti i pavimenti e io sento già di amarlo profondamente, grazie, ti amo. La pancina del Nito la potete vedere meglio in camera e andiamo un po' ad analizzare la cosa che ha composto questo modello. La cosa che trovo personalmente più innovativa rispetto a rumba che avevo io è come si estrae il cassettino dove andrà a fine la polvere da sopra, eccolo qui. Quindi il prodotto l'abbiamo spacchettato, eravate testimoni, adesso vorrei provare a pulire una delle stanze, ma prima devo scaricare la app perché tramite l'app mi sarà possibile controllare la pulizia delle stanze, pulirne soltanto una, pulirne soltanto una serie, ma soprattutto la cosa più bella di questo prodotto è che a differenza del rumba che si muoveva un po' alla cieca come detto, il modello 780, questo Nito 750 ha un laser che scansiona tutta la stanza e lui memorizza il diametro della stanza a tutti i vari ostacoli, li tiene appunto nella sua memoria e poi di conseguenza va a pulire le stanze, questa è una cosa fichissima perché ti fa la mappatura della tua casa e te la fa decisamente molto molto bene, almeno secondo le recensioni, andiamo a vedere. Ok, numero 1, questa è la nostra base, andiamo a mettere la presa, mi piace perché tutto questo labirintino dove puoi nascondere il filo in modo che non sia troppo in mezzo ai piedi, approvato. A questo punto ho messo la base nel mio posticino per la base, eccolo qua, attacco piano piano dal nito che inizia a caricare. Nelle istruzioni vi diranno di lasciargli uno spazio di un metro a sinistra, un metro a destra e un metro sul fronte, io questo spazio non ce l'ho, quindi per lui sarà un pochino più difficile trovare la base, ma non credo perché ce la feceva il rumba di nove anni fa, ce la farà pure lui, bisogna essere confidenti. E quindi una volta attaccato alla presa che cosa si fa? Si aspetta ragazzi, deve caricare completamente prima di fare tutte le sue azioncine, quindi lo lasciamo lì tranquillo a caricare perché non vorrei mai che si compromettesse la batteria appena preso, quindi fatelo. Quello che però possiamo fare per portarci un po' avanti col tempo è scaricare l'app sul cellulare, l'app del nito e per abbinare il cellulare al nito mi basterà accenderlo perché nei primi 60 minuti il dispositivo cercherà di abbinarsi con un cellulare che abbia quell'app scaricata e mi chiederà una delle cose che io odio di più, ovvero la password del mio modem che è tipo chilometrica ragazzi, andiamo a inserirla. In questo modo il nito potrà vedere il mio impianto wifi e potrà comunicare con il mio cellulare e con me. E' in questi casi che io capisco la gente che mette come password password. Comunque adesso finalmente al mio robottino posso dargli un nome, mio marito è in conferenza di là quindi mi tocca scegliere il nome da sola, scegli un nome del quale non ti pentirai mai. Idrovora. Qui sta diventando tutto verde quindi non solo se è connesso al wifi, se è connesso finalmente al mio internet e sta registrando il prodotto per me sul loro database. Fatto ragazzi. E adesso mi dice ciao sono Mr. Idrovora. Mi fa un sacco ridere. E vuole sapere se io voglio o meno iniziare a pulire. Che faccio? Non ho ancora caricato secondo me. Però ho deciso che io lo attivo ragazzi perché sono una ragazzaccia dopo tutto e non so aspettare. E quindi basterà farlo partire soltanto una volta per avere la mappatura della casa. Sono molto curiosa di vedere come la farà e se si bloccherà come il rumba alla maledetta poltrona. Avviamolo. Calda i motori tipo aereo. Secondo me come il rumore è un po' più forte di quello del rumba. È comunque un rumore tipo phon però è un phon piuttosto forte. Facciamo una prova vediamo com'era il mio rumba a livello di motore. Questo è il rumore del mio rumba. Che come vedete è un bambino di 5 anni senza la mamma. E questo è il rumore del mito. Molto più forte secondo me. Questo sta arrivando ragazzi. Però andiamo a vedere come pulisce. Sta ancora facendo la mappatura dell'ingresso e si sta pian piano spostando nel mio salone. Aiuto come un piccolo squalo. A terra ho fatto un po' di avanti e indietro dal balcone quindi c'è un po' di terriccio. Vediamo se pulirà tutto quanto. Sta pulendo qui dove era particolarmente sporco perché era uscita nel balcone dove c'è il terriccio. È passato una volta. Direi che è venuto molto pulito. Non ci sono più schifezze per terra quindi ha provato. Ha smesso improvvisamente di aspirare e se ne va. Credo che abbia effettuato la mappa quindi sia soddisfatto. Questo è come si mette in carica da solo. Sta trovando il punto di appiglio perfetto. Provato. Ma soprattutto non si è mai bloccato. Cosa che Rumba poveretto ormai faceva grazie al suo famoso amore per quella sedia alla gioco. Chapeau. E la prova è stata superata. Complimenti. Ce l'hai fatta. Non come tuo fratello. È interessante sapere che potete controllare questa macchina non solo dalla app e non solo grazie alla mappa ma anche grazie a questa roba magnetica che potete usare per delimitare luoghi dove voi non volete che il robottino vada. Ripeto, basterebbe l'app teoricamente però potete anche fare così. Con questo qui che trovate in dotazione. Una cosa che per ora è piuttosto evidente è come affronta i piccoli ostacoli che siano cavi o che siano altre cose. Riesce ad alzarsi in un modo che il Rumba non poteva fare. Anche il Rumba è progettato, intendiamoci, per non cascare dai sotto perché è un sensore che fa percepire il vuoto delle eventuali scale per dire. Però in questo caso qui mi sembra che reagisca molto meglio agli ostacoli. Appena trovate i fili del mio computer vediamo come si comporta. Li ignorerà o proverà a farci all'amore? La prova dei fili. Ha ignorato i fili dopo averli montati come faceva il Rumba ma con un altro esito. Si è in qualche modo scavalcati, analizzati e ignorati. Beh che dirvi, la pulizia è venuta veramente molto bella, ci ha messo 45 minuti per fare la mappa. Adesso si sta ricaricando e ci è andato da solo, quindi bravone. Super interessante ma soprattutto super approvato. Ho visto da subito la differenza con il mio Rumba, Renza Eppito, sono notevole, assolutamente notevole. Pulisce molto molto bene, però devo dire lo faceva anche il Rumba. Quello che mi ha stupito è la sua capacità di non morire impicciato nel primo ostacolo come purtroppo cadeva ormai al povero Rumba, riposi in pace a casa di mia madre. In generale sono molto molto contenta dell'acquisto anche perché l'ho comprato con uno sconto durante i Prime Days, che sono i Prime Days per gli abbonati Amazon di livello Prime. Perché vi faccio uscire questo video proprio in questo periodo? Perché vi metto in descrizione il link per acquistarlo, guardando meglio e compararlo con altri modelli, ma in generale vi consiglio di acquistarlo nel mese di novembre per il Black Friday, durante il quale di solito Amazon riduce i prezzi, perché ecco ci siamo, quindi insomma io ne approfitterei. Se avete qualcosa di tech da comprare in generale, di solito durante il Black Friday su Amazon i prezzi scendono, ma non solo su Amazon, se poi siete in America, che ve lo dica a fa? Fate i veri affari. Ma invece fosse di quelli interessati a comprare il Rumba serie 9, quello da 1000 dollari, complimenti. Innanzitutto volevo dirvi che questo modello del Nito è un sesto più veloce rispetto al Rumba di serie 9, però in realtà in tutti gli articoli comparativi che ho visto il Rumba serie 9 è migliore in termini di forza di aspirazione, quello potrebbe fare la differenza, però diciamo che in una casa dove c'è uno sporco normale, quello causato da animali, bambini eccetera, secondo me il Nito 750 pet fa assolutamente il suo e costa veramente due terzi in meno rispetto al Rumba di nuova generazione, quindi io eviterei. E quindi questa era la mia recensione semiserie, ho cartoni dappertutto che devo andare a buttare, molto bene. Questo Natale, questo Black Friday, questo giorno speciale, questo compleanno, non lo so, dite anche voi addio, ciao e bye bye alla schiavitù della scopa, spezzatela in due e buttatela, perché ormai è l'epoca dell'automatizzazione che ci ruba i posti di lavoro, però ci crea pure questi essereni qui deliziosi che ci opriscono a casa, provateci. Io come sempre vi saluto, vi ricordo che mi trovate ovunque nell'internet, nei vari social media, Facebook, blog, Instagram, YouTube e pure su Pinterest, anche se non ho ben capito che devo fare lì, però ci sto. Soprattutto ci vediamo mercoledì prossimo con un nuovo video e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale e attiva la campanella, sicuramente mi farai super feliciona. Soprattutto ci vediamo la campanella, sicuramente mi farai super felicito.